Sì, buongiorno, si chiama Costruiamo Casa Vicenza Calcio Femminile. E' questo il progetto delle ragazze bianco-rosse che in questa settimana dell'8 marzo assumono una forza ancora maggiore. Si tratta di un progetto perché l'intenzione è di costruire una piattaforma multifunzionale per giovani calciatrici. Dunque è partita una raccolta fondi per creare al baracca dove si allenano, dove giocano, una struttura coperta a disposizione delle ragazze ma anche dello staff, dei genitori e dei tifosi. La raccolta fondi è partita, sono già stati raccolti 2.832 euro. La somma totale è 7.000 euro, quindi il 40% dell'obiettivo è stato raggiunto. Ma bisogna fare di più, come dice Erika Maran, la presidente dell'associazione Calcio Femminile Vicenza Serie C, che questa sera nell'edizione serale ci darà maggiori dettagli proprio della sua voce. Linea che può tornare allo studio.